La Gazzetta dello Sport, uno dei maggiori quotidiani sportivi italiani, ha elogiato Lobotka, affermando che è lui il responsabile della stabilizzazione dell'intero gioco del Napoli, andiamo nel dettaglio. Se ami tifare Napoli e non vuoi perderti le notizie più commentate, iscriviti al canale, lascia un like per aiutare e attiva le notifiche. Il giocatore slovacco Stanislav Lobotka è stato uno dei punti di forza del centrocampo del Napoli di Luciano Spalletti, dimostrando la sua importanza sia in difesa che in attacco. È stato determinante per la squadra, con un notevole equilibrio nelle sue azioni in campo. È considerato un giocatore chiave e per fermare il Napoli è necessario bloccare le sue azioni. Anche le statistiche di Lobotka sono impressionanti, con sette palloni persi e 121 recuperati, a dimostrazione della sua efficienza e importanza nel gioco. È in grado di riprendere possesso con facilità e aiutare la squadra a passare dal campo difensivo a quello offensivo. Inoltre, è anche in grado di effettuare giocate accurate e di collaborare alla costruzione delle giocate offensive della squadra. La sua presenza in campo è fondamentale per il Napoli e la squadra può guardare con fiducia la seconda metà della stagione grazie alla sua prestazione costante e all'impatto sul gioco. Quindi fan, qual è la tua opinione su Lobotka? Lascialo nei commenti qui sotto. Per non perdere le novità, iscriviti qui sul canale e attiva la campanella delle notifiche.